Il ritratto di Elsa Greer, capitolo 16, il resoconto di Adrian Warren. Caro signor Poirot, mantengo la mia promessa scrivendovi tutto ciò che posso ricordare di quei terribili eventi, sedici anni fa, ma solo ora mi rendo conto di quanto poco io rammenti. Nulla mi turbò finché la cosa non accadde. Ho appena un vago ricordo di quei giorni d'estate e di alcuni fatti isolati, ma non potrei neanche essere sicura che avvennero proprio in quell'estate. La morte di Amias Krayl mi colpì come un fulmine a ciel sereno, non mi ero resa conto della situazione che si era creata e mi sembra di aver dimenticato ognuno dei particolari che condussero alla tragica conclusione. Inoltre, in quel periodo, cominciai a scoprire il fascino delle parole, le cose che leggevo, frammenti di poesia, di Shakespeare, risuonavano di continuo nella mia mente. Mi ricordo che camminavo su e giù per il prato adiacente alla cucina, ripetendo in una specie di estasi certi versi di Milton. Erano così belli che li dicevo e ridicevo continuamente, senza stancarmi. E oltre a queste nuove scoperte che mi inebriavano, c'erano tutte le cose che mi piaceva fare non appena mi venivano a mente. Nuotare, arrampicarmi sugli alberi, mangiare la frutta, giocare con il mozzo di stalla e cavalcare. Carla e Amias mi accontentavano in tutto. Loro erano le figure centrali del mio mondo, ma io non pensavo mai a quel che poteva succedere fra di loro e ciò che potevano pensare o sentire. L'arrivo di Elsa non mi destò particolare impressione. Pensavo che fosse stupida e non mi ero mai accorta che fosse bella. L'accettai come una persona molto ricca e noiosa a cui Amias doveva fare il ritratto. La prima avvisaglia, che stava accadendo qualcosa di brutto, la ebbi sentendo un discorso dalla terrazza, dove un giorno ero scappata non appena terminato il pranzo. Elsa diceva che avrebbe sposato Amias. Mi colpì come una cosa assolutamente ridicola. Ricordo che stuzzicai Amias in proposito. Eravamo nel giardino di Encross e gli chiesi «Perché Elsa dice che ti sposerà? Non può. Non si possono avere due mogli. Se si è bigami si va in prigione». Amias si arrabbiò e borbottò «Dove diavolo l'hai sentita questa?». Gli risposi che l'avevo sentita attraverso la finestra della biblioteca. Non l'avevo mai visto così arrabbiato. Mi disse che era tempo che andassi in collegio e perdessi l'abitudine di spiare. Fui molto offesa dalle sue parole perché erano ingiuste, assolutamente ingiuste. Balbettai tanto ero infuriata che non avevo spiato proprio niente e ogni modo chiesi «Perché Elsa dice una sciocchezza simile?». Amias rispose che era uno scherzo. Questo avrebbe dovuto tranquillizzarmi e ci riuscì in parte, ma non del tutto. Dissi a Elsa mentre stavamo tornando a casa «Ho domandato ad Amias cosa avete voluto dire affermando che lo sposerete» e mi ha risposto che è stato uno scherzo. Pensavo che ci rimanesse male, ma si è limitata a ridere. Non mi piaceva quel sorriso. Andai in camera di Caroline. Si stava cambiando per la cena. Le chiesi a bruciapelo se era possibile che Amias sposasse Elsa. Mi ricordo benissimo la risposta di Caroline. Amias sposerà Elsa solo quando io sarò morta. Questo mi rassicurò completamente, perché la morte mi pareva una cosa remotissima. Ciò nonostante, ero ancora avvilita per quello che Amias mi aveva detto sul pomeriggio e lo tormentai rabbiosamente per tutta la durata della cena. Ricordo che litigammo e che scappai via. Me ne andai a letto e mi addormentai piangendo. Non ricordo molto di quel che successe quando andammo da Meredith, sebbene non abbia dimenticato la sua lettura del brano del fedone che descrive la morte di Socrate. Non l'avevo mai sentito prima. Mi parve la cosa più bella che avessi mai ascoltato. Ricordo il fatto, ma non quando avvenne. Potrebbe essere stato un giorno qualsiasi di quell'estate. Ho pensato e ripensato alla mattina seguente, ma non ricordo nulla. Solo vagamente mi pare di aver fatto un bagno in mare e che poi mi fecero ramendare qualcosa. Ma tutto è indeterminato, confuso. Fino al momento in cui Meredith comparve sul viottolo che portava alla terrazza con la faccia stravolta. Ricordo che una tazzina da caffè cadde sotto il tavolo e si ruppe. Era stata Elsa. E che improvvisamente si lanciò di corsa giù per il sentiero, con un'espressione orribile in viso. Provai a ripetere a me stessa, Amias è morto. Ma non mi pareva vero. Arrivò il dottor Fawcett. La signorina Williams era occupata con Caroline. Io giravo senza sapere cosa fare, intralciando gli altri. Mi sentivo come se fossi malata. Non mi lasciarono andare al giardino per vedere Amias. Di tanto in tanto venivano quelli della polizia e prendevano appunti sui tacquini e poi portarono in casa il corpo su una barella coperta. Più tardi la signorina Williams mi condusse nella stanza di Caroline, che era sdraiata, pallida e sofferente. Mi baciò e disse che desiderava che andassi via il più presto possibile, che era una cosa orrenda, ma che non dovevo angosciarmi, che non dovevo pensarci. Dovevo raggiungere Mary da Lady Tressilian, perché in casa nostra diventava impossibile rimanere. Io abbracciai Caroline e le dissi che non volevo andare via. Mi rispose che mi capiva, ma che era meglio che andassi via, perché questo l'avrebbe sollevata da una grave preoccupazione. La signorina Williams si intromise per dirmi, il modo migliore di aiutare tua sorella, Adrian, è fare quello che lei desidera senza cercare di discutere. Dovetti scendere a parlare con il sovrintendente di polizia, che fu molto gentile e mi chiese quando avevo visto Amias per l'ultima volta. Mi fece una quantità tale di domande che mi parvero senza senso. Si convinse che non avevo nulla da dire, che non avesse già sentito dagli altri, e così autorizzò la signorina Williams a portarmi a Ferrybley Grange da Lady Tressilian. Lady Tressilian fu molto cortese con me, ma presto seppi che Caroline era stata arrestata. Ero così inorridita e confusa che mi ammalai. Più tardi mi dissero che Caroline era molto preoccupata per me. Fu lei a insistere perché lasciassi l'Inghilterra prima dell'inizio del processo, ma questo ve l'ho già detto. So solo una cosa, non fu Caroline a commettere il delitto. Ne sono pienamente convinta, e lo sarò sempre, ma non ho prove da offrire, salvo la mia profonda conoscenza del suo carattere. Bentornati su Narrazioni senza importanza. Capitolo breve, ma spero che avendovi portato tre capitoli questa settimana possiate comunque essere soddisfatti. Vi ricordo che sul canale trovate un sondaggio in cui chiedo a voi qual è il libro che volete che legga la prossima volta, tre scelte famosissime, scegliete quello che preferite. Vi ringrazio come sempre di essere stati in mia compagnia. Vi ricordo che se volete potete farmi le vostre domande nei commenti e chiedermi quello che volete riguardo a me, riguardo al canale, riguardo ai progetti. E io molto presto vi porterò il prossimo video appunto a tema personale. E come sempre vi ringrazio per essere stati in mia compagnia. Vi ricordo che potete sostenere il canale iscrivendovi, mettendo un like, un commento, condividendo il video. Potete venirmi a trovare anche su Instagram, narrazioni senza importanza. E come sempre ci ritroviamo al prossimo capitolo. Alla prossima!